Andiamo a rubare, andiamo a rubare. Andate a rubare? Sì, andiamo per me. E dove andate a rubare? Giro, giro, giriamo, cosa vediamo capita. La rete si scatena, ben 11.000 visualizzazioni in poche ore. La dichiarazione shock del nomade al microfono di Rete Veneta ha sollevato l'indignazione degli utenti di internet. Su Facebook è il segretario cittadino di Vicenza, della Lega, Matteo Celebron, a postare il nostro servizio che riceve subito tantissime condivisioni e moltissimi commenti irritati ed esasperati. E non è l'unico contributo della redazione vicentina di Rete Veneta a circolare sul web. Tra i tanti ricordiamo il nostro servizio sul degrado di Piazzale Bologna, che con la bellezza di 130.000 visualizzazioni e 3.000 condivisioni, è stato ripreso dai siti e dai blog, fino ad arrivare in Toscana, postato dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli. Insomma, la rete risponde a dimostrazione che quelli che tocchiamo sono nervi scoperti, problemi reali, diffusi, che la gente vive sulla propria pelle tutti i giorni e che aspettano ancora una soluzione. Ed è questa la nostra missione, essere vicini ai cittadini, dargli voce. A proposito, anche oggi documentiamo, per l'ennesima volta, la presenza di camper in via Zamenhof, proprio nella zona vietata dall'ordinanza del sindaco Achille Variati. Possibile che ce ne siamo accorti solo noi e i telespettatori che continuano a segnalare che i nomadi sono lì da settimane, alla faccia delle norme? Inutile fare le regole se poi non vengono rispettate, o no?